salve amici e bentornati sul canale charlie oggi tornare sull'argomento saturimetro e voglio farlo insieme a questo dispositivo marca medilink modello am 801 naturalmente nella descrizione del video trovate il link per andarlo a vedere su amazon questo dispositivo mi ha colpito perché oltre a misurare la frequenza cardiaca oltre a misurare la quantità di ossigeno presente del sangue è anche in grado di rilevare la temperatura corporea quindi è un vero e proprio termometro io naturalmente la scatola giola aperta perché in questi giorni l'ho testato l'ho anche paragonato con un altro saturimetro e con i valori del mio huawei watcher gt3 e devo dire che i valori sono veramente identici allora cosa arriviamo nella scatola un fogliettino con i ringraziamenti per aver scelto il prodotto un tagliandino con la garanzia molto importante questo ci indica come dobbiamo applicare il sensore per misurare la temperatura oggi con voi quello che voglio fare è vedere come funziona la sonda per per misurare la temperatura corporea questa è la sonda io ho detto già l'ho aperta allora questa si collega direttamente al nostro saturimetro e la sonda come ci viene indicato anche dalle istruzioni può essere messa o sotto la scella come un normale termometro o su una tempia o direttamente in bocca e questo è praticamente un adesivo molto verino fatta a forma di cuore che serve per attaccare la sonda per dire ce la vogliamo attaccare a tempia in questo modo io ho visto che il valore più diciamo preciso e soprattutto più veloce si ha quando lo si mette in bocca poi andiamo a vedere questo è il libretto delle istruzioni è solo in inglese ma qui abbiamo il qr code da scansionare per scaricare anche quello in italiano comunque è molto dettagliato e anche in inglese è molto comprensibile lo mettiamo qua questo è il nostro dispositivo in questa sacchetta molto carina qui abbiamo l'accetto per attaccarlo e andiamo a vederlo eccolo qui cosa da dire è alimentato da due mini stilo che non sono comprese nella confezione quindi queste dovete acquistarle e metterle voi si accende dal tasto a forma di cuore quest'altro tasto serve per cambiare l'orientamento del display per avere una misurazione affidabile dobbiamo avere una mano calda una mano pulita non ci deve essere lo smalto e la mano normalmente va tenuta sotto al livello del cuore allora si utilizza sempre il dito medio nel frattempo lui si è spento perché è andato in stand by lo andiamo ad accendere ci orientiamo il display e andiamo a vedere la prima misurazione come possiamo vedere è velocissimo per avere un valore abbastanza attendibile dobbiamo circa attendere 30 secondi in modo che si stabilizza allora andiamo a leggere i valori abbiamo 98 per cento per la saturazione 74 71 per il battito cardiaco molto importante abbiamo anche il livello della batteria e al centro del display abbiamo questo pi che è l'indice di profusione che praticamente ci permette di valutare l'affidabilità della misurazione della saturazione questo valore deve essere maggiore di 4 adesso passiamo alla cosa che mi preme di più che la misurazione della temperatura allora prendiamo la sonda apriamo questa questo sportellino e l'andiamo ad inserire qui in questo modo andiamo ad accendere il saturimetro lui già parte con la misurazione della temperatura dal fogliettino possiamo vedere che lo possiamo mettere o come ho detto prima sotto la scella sulla tempia o dentro la bocca io ho visto che in bocca la misurazione è praticamente immediata leggiamo 36 4 35 più o meno alla mia temperatura base lo spegniamo adesso qui ho il termometro della nonna e un termometro istantaneo partiamo con il termometro della nonna lo andiamo a scaricare old school e lo teniamo sotto la scella per circa 5 6 minuti e poi andiamo a vedere il risultato manca poco olè passati i 6 minuti andiamo a leggere la temperatura non so se si riesce a vedere comunque 36 e 4 quindi identica a quella del saturimetro se facciamo una prova con il termometro istantaneo anche se questo tipo di termometro a me sempre segnato diciamo la temperatura inferiore questo lo andiamo a vedere ha suonato 36 e 1 comunque ci siamo quindi abbiamo 36 4 36 4 e 36 e 1 quindi possiamo dire comunque anche per rilevare la temperatura questo saturimetro è molto affidabile bene amici ecco così giunti alle conclusioni come abbiamo visto questo dispositivo è veramente preciso sicuramente comodissimo da portare in viaggio secondo me anche più preciso di questo termometro perché a volte questo termometro mi dà dei valori un pochettino secondo me troppo bassi vi consiglio di andare a vedere il sito internet anzi vi lo lascio in descrizione perché questa società costruisce tantissimi prodotti altissimi dispositivi medici anche professionali e ha avuto moltissimi riconoscimenti bene amici come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se avete delle domande lasciatele nei commenti io vi saluto al prossimo video flavio